Buongiorno a tutti, io non riesco a stare seduto, mi piace, ecco, io sono Felice Bombaci, sono un paziente, non di meloma, ma di meloide cronica, perché allora sono qua? Ma perché quando fui diagnosticato io, beh lì vedete le foto, per esempio questo, sono contento di essere qui perché, fra l'altro, qui siamo a Verona, nello stesso posto dove siamo oggi, con l'amico professor Gianni Pizzolo, avevamo organizzato un incontro con tutti i medici della, diciamo, della Regione Veneto per parlare di meloide cronica e sono contento di essere qui, di ritornare qui, per parlare nuovamente di gruppi pazienti. Cosa c'è di diverso? Perché i gruppi pazienti? Quando fui diagnosticato io, non trovai niente in giro su internet, se non in inglese, io parlo del 2000, 2000 era l'inizio di internet, non c'era tanto, eppure era faticoso, era difficile, eppure mi hanno diagnosticato una leucemia, una leucemia, una malattia, almeno a me avevano detto dai 3 ai 5 anni di vita, grazie a Dio sono passati 20, quindi la cosa è andata bene così. Però grazie alla ricerca, grazie a quello che ho trovato su quello che oggi chiamano la rete, su internet, trovai un news group dove un'altra persona, un advocate, non sapevo che esistessero gli advocates, gli advocates sono queste persone che si mettono a disposizione di altri pazienti, che spiegano che cosa è un gruppo pazienti, che cosa vuol dire essere pazienti, come possa aiutarti, che è diverso da quello che diceva Daniel, quello che diceva Daniel è fondamentale, le 81 sezioni di AIL sul territorio danno assistenza diretta, materiale, quella che serve al paziente, il familiare, il trasporto, la casa AIL, i contributi per far sì che ci siano infermieri, biologi, medici, di più di quelli che il sistema sanitario, che dobbiamo ringraziare esista e dobbiamo difenderlo con le unghie e i denti per evitare che ce lo facciano diventare privato, ma è importante che ci sia, però l'AIL aiuta e supporta il sistema sanitario, anzi fa sì che in ematologia, grazie a lei, grazie a Gimema, noi abbiamo a livello nazionale, sia che si è diagnosticato, è diverso tra i tumori soliti, sia che si è diagnosticato a Torino, a Milano, Torino dove io vivo, Messina dove io sono nato, tu hai la stessa possibilità di avere accesso agli stessi protocolli, ad avere dei centri che sono in rete, ad avere le stesse opportunità diagnostiche e terapeutiche e questo è grazie all'intuizione di un uomo che oggi purtroppo non è più con noi, d'altra parte il tempo è per tutti e quindi passa inesorabile, però ha fatto tanto quest'uomo, il professor Mandelli non possiamo non ricordare l'AIL, non sarebbe quella che è, l'AIL senza il professor Mandelli e noi abbiamo l'obbligo, l'onore di stare in quel solco e di far sì che l'AIL continui raccogliendo i 12 euro dalla signora che quando viene al mercato a Torino mi dice speriamo che siano spesi bene, che questi soldi vadano a buon fine e questo sono garanzia alle sezioni, le sezioni in tutta Italia fanno sì che quei soldi centesimo per centesimo vadano impiegati per esempio per fare anche studi clinici perché lo studio clinico è anche assistenza, quello diceva il professor Semenzato prima, è fondamentale, sono studi clinici che nessuna azienda farmaceutica farà, andare a vedere l'ottimizzazione delle terapie solo l'Accademia lo può fare, solo diciamo l'AIL che può sopportare queste possibilità tramite anche il GIMEMA che è questo gruppo di ematologi che a livello nazionale stanno insieme, sono divisi in working party, ogni working party è specializzato su una patologia e c'è anche il working party del mieloma. quindi è importante e quindi non potevo non parlare dei gruppi pazienti ma di AIL perché quando io nel 2009 sono andato a Roma perché avevo fatto un'esperienza, avevo incontrato come vi dicevo gli advocates, questi supporti per i malati, paziente che parla a un paziente, paziente che spiega a un paziente che cosa vuol dire vivere con quella malattia, che combatte per i pazienti perché ci sia l'accesso alle terapie in tutto il mondo perché noi siamo fortunati in Italia ma se passiamo la frontiera qua vicino non è detto che tutte le terapie, noi parliamo di triplette, lì non hanno manco la singola terapia alle volte, in certi posti si viaggia ancora di chemio o comunque il destino è la morte, nonostante oggi nell'West Europe e nell'America eccetera si parla di progressi e terapie nuove, quindi è importante l'avvocate è quello che supporta anche in questo ed è la differenza e io praticai subito, mi agganciai a questa rete internazionale, io non conoscevo l'AIL ancora e la conoscevo come supporter, come persona cittadino che dava il suo contributo e quindi divenne un'avvocate anch'io e cercai di andare poi a trovare un modo perché ci fosse anche in Italia qualcosa del genere, creare un'altra associazione non mi piaceva, ho provato a chiedere al professor Mandelli e il 3 settembre del 2009 andai da lui e chiesi se era possibile poter costituire un gruppo pazienti all'epoca per la mia lovita cronica che è la mia patologia. E così avanti, siamo a Roma nel 2010, il primo incontro pazienti, non esisteva niente, eravamo più di 200 partecipanti provenienti da 14 regioni e 170 utenti erano registrati su quello che era il forum che oggi è in ristrutturazione, ma un forum dove i pazienti fino a giugno di quest'anno potevano discutere e confrontarsi su quelle che erano le problematiche della vita di tutti i giorni con la mia lovita cronica all'epoca. E così nel tempo sono poi nati gli altri gruppi pazienti e dentro l'AIL questo germe è cresciuto e quindi ad oggi abbiamo fatto più di 106 seminari perché quelli contano solo quelli diciamo ufficialmente effettuati, poi ci sono tutti quelli locali, a Verona ci siamo venuti un'altra volta con la neve, mi ricordo, quella volta all'ospedale con il professor Pizzola a fare un altro incontro e così via. Abbiamo incontrato in tutta Italia più di 10.000 familiari e pazienti, ormai non li contiamo più e praticamente molti ematologi italiani ci conoscono e abbiamo lavorato insieme. Io personalmente ho aderito da subito a delle reti internazionali, CML Advocates Network, CML Advocates Network, che sono le reti internazionali di coloro, hanno fatto vedere le fotografie prima Erdogan, la GMAN, la Global Mieloma Patient Advocates Network, che è questa che costituisce le persone che si sono messe disponibili a livello nazionale a rappresentare i propri pazienti, la nazione in quell'ambito. E quindi io sono attivo in tutte queste reti e quindi noi lavoriamo a stretta, diciamo, contatto con quelle che sono le reti internazionali. Come Italia, come gruppi pazienti, abbiamo anche costituito all'interno del sito AIL uno sportello sociale per le problematiche sociali, dove se qualcuno di noi, ma ne parliamo nel pomeriggio, più tardi abbiamo la sessione dedicata, il numero, da quest'anno abbiamo messo in piedi 16 seminari per i pazienti. Abbiamo organizzato l'anno scorso una riunione apposta per costruirli e quest'anno le abbiamo messi in piedi. Multisponsor, non è più un'azienda che ci dà il contributo, ma tutto indipendentemente dai farmaci, che ognuna di loro supporta, della patologia che supporta. Perché i gruppi pazienti? Perché quando ti arrivano a diagnosi di leucemia, il mondo si chiude davanti, la porta del futuro non c'è più. Io vedevo i miei figli orfani, io avevo 41 anni e tre bambini, 4, 8 e 10 anni. Il mio crucio, il mio problema, quando la dottoressa mi disse, lei ha dai 3 ai 5 anni di vita se non fa un trapianto che fra l'altro ha un rischio vita del 25%, era ma i miei figli saranno figli, saranno degli orfani, non avranno il futuro degli altri. Perché purtroppo può succedere anche quello poi, quando sei l'unico sostegno di famiglia, quando hai fatto certe scelte con la moglie per le famiglie, poi di colpo tutti i progetti si fermano. La leucemia, un mieloma, ti blocca il futuro. Ma che cosa vuol dire? Ognuno di noi lo vive in modo diverso, però patologie diverse, ma è questo il senso che abbiamo tutti. Questi sentimenti, queste problematiche, l'essere colpiti da qualcosa che ti blocca il futuro, ce l'abbiamo tutti. Fra l'altro il mieloma è vero, è una malattia dell'adulto, ma è anche la malattia alle volte di giovane. Io conosco ragazzi di 30 anni e quindi è vero che ti blocca il futuro in tutti i sensi, anche in quel senso. Quindi la diagnosi, queste sono testimonianze che abbiamo raccolto con un questionario che abbiamo specifico per pazienti di mieloma, che dice quando è venuta fuori la parola mieloma per me era assolutamente nuova e quindi capelli dritti, spavento, perché sinceramente quando finisce in oma la cosa non si dice bene. Infatti in tutti oma, nessuno, spesso in giro non si sa che cos'è il mieloma, si sa che cos'è una leucemia, spesso si mettono tutte insieme come leucemie o si parla di linfomi, ma però di mieloma se ne parla un po' meno, non si sa che cos'è. Eppure è anche questo un tutto.